Tu lo sai che io non gli farei mai del male, vero? Senti, ci siamo solo noi. Andiamo, lo sai? Che cosa vuoi, Giulia? Dimmi solo che lo sai. Tu adesso mi odi, ti ho tradito, ma... Non mi interessa. E invece sì. E va anche bene, ma ho solo bisogno di vederlo qualche volta. Già lo vedi. Su Skype. E io ho bisogno di poterlo abbracciare, è mio figlio. Non posso. Ok? Non posso. Non da sola. Giulia, hai provato a fargli del male? No, non è vero. Sì che è vero. Non puoi ammetterlo, ma l'hai fatto. Come puoi esserne così convinto? Eh, tutto non c'eri. Perfino la polizia ha detto che non l'ho fatto. No. Non avevano abbastanza prove per accusarti. Non è la stessa cosa. I servizi sociali non ti avrebbero portato via Jesse se ti avessero creduto. Davvero? Non credi che sia perché tu sei ricco e famoso e puoi permetterti degli avvocati costosi e io non sono niente? No! No, questo non può essere. No, potrebbe. Se non ti conoscessi. No, potrebbe. Non? No.